Con il direttore sportivo Luca Cattani per fare il punto sul mercato appena concluso, allora il Novara si è rinforzato molto, una rosa ampia e competitiva e leggendo anche i giornali anche la critica è soddisfatta. Il nostro punto di vista? Allora io parto da un presupposto che la rosa del Novara era già molto ampia e molto competitiva la passata stagione e inevitabilmente ha dovuto cambiare qualcosa, speriamo di averlo fatto orientandoci nella maniera giusta andando a colmare alcune lacune o imperfezioni che c'erano sia a livello numerico che a livello qualitativo e abbiamo cambiato leggermente sotto certi aspetti tecnici l'impostazione che c'era dell'organico della passata stagione. e ripeto per ora può essere solamente un augurio quello di avere allestito una buona squadra anche se siamo abbastanza convinti di averlo fatto. Ecco ci sono tanti giovani di valore e di prospettiva tutti provenienti dal vivaio azzurro però negli ultimi giorni è arrivata anche un po' di esperienza con i vari Genevie, Tomasig e poi l'ultimo colpo un po' a sorpresa a Martinez. Sì diciamo che la linfa che sta fornendo il settore giovanile è un aspetto preponderante di questa squadra e lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in queste partite, basta fare un esempio quello di Faragò che è un ragazzo straordinario che si sta migliorando giorno dopo giorno e avrà sicuramente un futuro luminoso. Non dobbiamo pensare solamente a Faragò ma poi a tutta una serie di ragazzi che riusciranno, ne sono convinto, a mettersi in mostra e a dare qualcosa e dare il loro contributo alla società, al club. Ma quello che poi ci ha spinto a intervenire sul mercato su una fascia di età diversa è stata poi la durezza di questo campionato che impone anche una serie di innesti con una fascia di età diversa. Quindi è necessario considerare anche l'aspetto dell'esperienza nell'allestimento dell'organico. Adesso il mister Aglietti che ha dimostrato tutte le sue capacità fin qui avrà qualche difficoltà in più perché con una rosa così ampia sicuramente sarà difficile scegliere il migliore perché sono molti giocatori sullo stesso livello. Io non la definirei una difficoltà. Le difficoltà per gli allenatori sono capire, leggere l'avversario, capire le situazioni. Io penso che quando avere problemi d'abbondanza non è mai un problema vero e proprio, è un problema tra virgolette. Speriamo che tutta questa serie di movimenti poi abbiano una direzione felice, un proseguo positivo e non vadano a creare problemi di nessun tipo. Per chiudere siamo alle porte della gara di Brescia contro una squadra importante. Che partita si aspetta? Sarà una battaglia come sempre in Serie B? Una partita durissima perché poi il Brescia è una squadra di valore allenata da un ottimo allenatore e comunque c'è anche da considerare l'aspetto, il fattore campo che innalza il livello della squadra. Ogni volta giocare a Rigamonti non è cosa semplice e per questo sarà fondamentale prepararci nel modo migliore possibile. Io mi auguro solamente che prosegua la squadra il lavoro che ha già cominciato questi giorni dopo all'indomani della vittoria di Siena perché sarebbe il modo migliore appunto per presentarci a questa partita.